Ciao a tutti da Gerolamo Alchieri. Purtroppo non siamo ancora fuori pericolo, non dobbiamo abbassare la guardia, anzi dobbiamo stare doppiamente attenti ad esso che almeno in parte conosciamo il nemico. La prima cosa da fare per dare una mano ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari ancora impegnati in prima linea contro il coronavirus è usare il buonsenso e seguire le regole. Poi si può andare su Instagram a vedere i ritratti in vendita sulla pagina lore1981doc o su ebay digitando ritratti per aiutare chi aiuta. Lorenzo ha fatto anche il mio. Tutto ma proprio tutto il ricavato va a favore della raccolta fondi di Croce Rossa Italiana ed Emergency. I dettagli sono presenti sotto ogni disegno. Ognuno di noi è il prossimo di qualcun altro. Tutti noi abbiamo qualcosa e qualcuno per cui lottare, per cui andare avanti, per cui essere degni. Anche un piccolo aiuto fa la differenza.